Non uno ma mille incontri sono stati significativi. La politica, se è fatta bene, deve essere al servizio dei cittadini, soprattutto delle categorie più deboli. Aiutare i disabili e le associazioni di volontariato, ascoltare e dare sostegno ai cittadini, collaborare con i dipendenti provinciali competenti e professionali. Ogni storia mi ha insegnato qualcosa e mi ha fatto crescere. Con l'edilizia pubblica costruiamo edifici con materiale riciclato e riciclabile, come il legno o una risorsa presente nella nostra terra a chilometro zero. Con il patrimonio stiamo risanando dal punto di vista energetico scuole, ospedali, rifugi, strutture per disabili, per ridurre l'emissione di CO2 e migliorare la qualità di vita delle future generazioni. Tre come i gruppi linguistici per i quali lavoro senza badare a bacini elettorali e convenienza politica, ma le reali esigenze dei cittadini, quindi passione, impegno, fatti concreti, non parole.